Nuova strumentazione per il liceo scientifico Livi, un banco mobile per gli esperimenti e un monitor dove proiettare le esperienze di laboratorio. Con un finanziamento di 50.000 euro, equamente divisi fra province e fondi europei PON, gli studenti dell'indirizzo biomedico potranno iniziare a far pratica ancora prima di terminare il ciclo di studi. Siamo molto contenti oggi di poter inaugurare questo spazio didattico ed è un laboratorio pensato prevalentemente per gli studenti del liceo scientifico e indirizzo biomedico perché trascorreranno più ore di scienze in quest'aula, ma anche per il liceo scientifico e in seconda battuta anche per il liceo linguistico. Uno spazio completamente riorganizzato che garantisce anche una maggiore sicurezza per ragazzi e docenti. Arriveranno ora ulteriori strumentazioni oltre alla dotazione che già avevamo e questo ci permette di ampliare il numero degli esperimenti che potremo fare. In questa scuola di laboratori ne abbiamo quasi due, uno che è quello in cui ci troviamo dove i ragazzi possono agire manualmente direttamente nell'esperimento e uno invece più dimostrativo in cui il docente può direttamente portare la dimostrazione nelle classi. Metà dei finanziamenti arrivano dalla provincia che continua ad investire non solo negli edifici scolastici ma anche nella strumentazione. L'avvio di questo nuovo laboratorio è fondamentale perché nell'ambito dell'indirizzo biomedico si formano i ragazzi che poi un domani potranno scegliere di fare una professione sanitaria. In questo modo, attraverso le attività di laboratorio, loro hanno già un modo per potersi esercitare a quello che sarà il loro futuro.